È chiaro che la Sampdoria sta giocando nettamente meglio, ha dei giocatori che Genna si sogna, perché Tosbi e la Sampdoria non ce l'ha, perché Gdall non ce l'ha, perché Gabbiadini non ce l'ha, perché Candreva non ce l'ha, ebbene loro l'invidio, l'invidio, che hanno a volte criticato, è una squadra sicuramente che ha delle qualità. Il Genna pur faticando disperatamente, non gli si può dire niente sotto il profilo dell'impegno, è una squadra che sta perdendo 1-0 perché ha preso un gol a sesso minuto, forse anche un po' col vento, oltre che Gabbiadini, quindi è in partita ed è il massimo che puoi chiedere a questa squadra, chi è il miglior allenatore d'Italia, Spalletti, Molinio, Allegri, gli dai l'Allegri Genna? Secondo te quanti punti fa? Dimmi te quanti cazzi di punti fa Allegri con questa squadra, con Bianchi che ha giocato in Serie C e con Bianchi che l'hai preso in Turchia, che non so se giocasse a pallone. Grazie a tutti!